Non è successo niente, raccolgo tutto io, raccolgo tutto io. Scusate, scusate. Ma se me è tardi, hai meccolo, le devo dire, e purtroppo è tardi. Ah, per quanto? Complimenti a chi io so. Principessa, anche lei qua. Eh... Portami via. Ed ora, signore e signori, un superbo spettacolo offerto dalla direzione del Grand Hotel. La torta etiope! La torta etiope! Grazie, musica maestro! Auguri! Grazie! Prego, principessa. Lei? Veloce, principessa. Grazie. 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 Grazie.